Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori tre chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra segna in direzione Firenze, un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione mare e per lavori è chiuso all'entrata di Empoli Ovest in direzione mare. In A1 per un incidente un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna con conseguente chiusura delle corsie di sinistra. In direzione Roma rallentamenti per lavori tra Barberino e Calenzano. Sulla statale 1 Aurelia per lavori tra Follonica Nord e Follonica Est scambio di carreggiata, chiusura dello svincolo di Follonica Nord in direzione Livorno. Può aversi Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!